Chiese, storia, natura, santuari sono solo alcuni degli scenari da valorizzare per creare sviluppo economico in Molise. Nell'anno della fede le istituzioni laiche e religiose si sono incontrate per creare un vero percorso di turismo culturale e spirituale. L'Arcivescovo di Campobasso Boiano, Monsignor Bregantini e il Presidente della Regione, Paolo Frattura, hanno voluto siglare così una collaborazione per un progetto basato su itinerari di fede e natura. Molise, turismo per fede, è il nome del progetto che mira la valorizzazione del patrimonio materiale ed immateriale della Regione, fatto di tradizioni, artigianato, arte e luoghi dedicati al Signore. Il Molise ha una grande risorsa, quella del turismo religioso, perché è costellato di chiese, di santuari, anche complessi di un certo rilievo storico, eccetera. E quindi è veramente un'occasione formidabile per poter attirare quel turismo cosiddetto religioso che potrebbe avere delle grosse ricadute, sia da un punto di vista proprio di conoscenza e diffusione della Regione, ma anche proprio materialmente dal punto di vista economico. Eticità del turismo e valori di sostenibilità alla base dell'iniziativa, che mira a sviluppare e conservare le risorse culturali ed ambientali della Regione. Tra gli itinerari che faranno parte del progetto Molise, turismo per fede, anche le celebrazioni per la Madonna della Libera di Cerce Maggiore. E in questo contesto, stamattina, sia il Presidente Dottor Fattura, sia l'Arcivesco Bragantini, hanno voluto presentare anche questo evento straordinario della conclusione del sesto centenario della Madonna della Libera. Che quest'anno, a differenza dell'anno scorso dove è intervenuto un caro amico, il Cardinal Cocco Palmeri, ma in veste diciamo di cardinale, quest'anno invece abbiamo, non lo so, grazie a Dio, per fortuna, oppure per un gentile cortese pensiero di Papa Francesco, un suo inviato speciale, ha avuto una nomina papale per venire a concludere le celebrazioni del sesto centenario il 2 luglio prossimo alle 18.30 e sarà accompagnato anche dalla piccola missione cosiddetta di Ficia, che è composta dal Vicario Generale della Diocesi di Campobasso, Don Giuseppe Nuzzi, e dal Vicario del nostro Paestro Generale dell'Ordine dei Dominicani, Padre Bolan. Quindi la cosa è molto diversa e chissà che non sia anche il preludio per un eventuale possibile, speriamo, venuto del Papa, perché al Cardinale vorremmo dare una lettera di ringraziamento da consegnare al Papa e dicendogli, guardi, Santità, le porte del Molise sono sempre aperte.